Nel 2020 si festeggiano i cent'anni della nascita di Gianni Rodale, uno dei più noti e fortunati scrittori italiani, il maestro della fantasia. Oggi scegliamo dal libro prime fiabe e filastrocche la filastrocca corta e matta. Filastrocca corta e matta, il porto vuole scusare la porta, la viola studia il violino, il mulo dice mio figlio è il mulino, la mela dice mio nonno è il melone. Il matto vuole essere un mattone e il più matto della terra sapete che vuole? Fare la guerra! Grazie a tutti!